buongiorno ragazzi bentornati su keep international io sono anita nel video di oggi parleremo di un qualcosa di un po particolare ovvero come poter migliorare la propria produttività l'altro giorno stavo controllando un po di cose su internet e mi imbatto su un articolo di giornale in cui parlano di un certo signore chiamato francesco cirillo che ha inventato una tecnica la tecnica dei pomodori e quindi volevo spiegarvi un po di che cosa si tratta perché magari vi può essere utile io ho provato ad applicarla al lavoro e diciamo che funziona quindi questa tecnica consiste nella sequenza di sei punti la prima cosa è quella di individuare il vostro obiettivo ovvero il compito che volete svolgere una volta che l'avete individuato dovreste impostare un timer il signor cirillo impostava un timer da cucina a forme di pomodoro per da qui deriva appunto il nome della tecnica dei pomodori e quindi impostare un timer a 25 minuti quindi dovrete concentrarvi nel lavoro nello studio che state svolgendo per questi 25 minuti una volta in cui i 25 minuti sono conclusi dovrete fare una pausa di 5 minuti quindi il quinto punto è ripartire di nuovo ovvero una volta fatto appunto i 25 minuti di lavoro senza distrazioni e i 5 minuti di pausa ogni quattro pause la pausa successiva sarà di 20 o 30 minuti ok quindi provate anche voi io ho provato e diciamo che riesco a lavorare anche una 45 50 minuti un'oretta diciamo io preferisco impostare quindi il timer ad un'ora di lavoro altrimenti non riesco a finire a concentrarmi su quello che sto facendo perché 25 minuti per me sono troppo pochi però ho notato che appunto dopo questa ora è normale che l'attenzione ti ti cada un pochino magari su facebook su instagram oppure una telefonata ad un amico eccetera eccetera quindi provate ad impostare appunto il timer all'orario che più vi viene comodo e poi fare appunto una pausa nella quale staccate completamente e poi mi rimettete di nuovo questo vi aiuterà sicuramente a concentrarvi molto di più e vi lascio anche se avete piacere potete scrivermi e vi posso lasciare un una tabella nella quale potrete anche proprio scrivervi compiti da dover svolgere e gli obiettivi che vi prefissate di dover svolgere durante la settimana quindi se volete scrivermi a info chiocciola chi va international punto com potete farlo e io vi invierò gratuitamente e il la tabella da poter utilizzare e niente spero che questo video mi possa essere utile spero soprattutto che poi che possa migliorare la nostra produttività quotidiana sia che sta riguardo al lavoro che lo studio ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao